Buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori oggi giovedì 28 aprile 2016 questa è la rassegna stampa come sempre in diretta delle 7 e 30 cominciamo dal santo del giorno, oggi è una santa molto importante oggi è una santa dei nostri giorni, una santa che è nata nel 1922 Santa Gianna Veretta Molla, abbiamo scritto madre di famiglia anche nei giorni scorsi, fino a ieri si è parlato nei nostri giornali del problema se torniamo un attimo su di me, così parlo ecco, allora dicevo nei giorni scorsi si è parlato molto dell'aborto ecco, è una storia che si inserisce in questo contesto perché questa santa si è rifiutata di abortire aspettava il quarto figlio, mamma di quattro anni stava aspettando il quarto figlio una dottoressa si è rifiutata, il figlio è nato regolarmente lei invece dopo qualche giorno è morta, è stata proclamata santa il sole è sorto alle 6.03 e tramonterà alle 20.08 il tempo per questa giornata di giovedì 28 era stato annunciato brutto arriverà brutto nel corso del pomeriggio, ancora la mattinata sarà un po' variabile sarà ancora poco nuvolosa, però poi nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ad estendersi dall'entroterra fin verso la costa e dunque avremo anche precipitazioni caratteri di rovescio o di temporale le temperature sono in diminuzione per la giornata di domani, venerdì 29 aprile ecco qua ancora mattinata avremo della pioggia domani mattina rovesci temporali sparsi anche durante la notte poi il tempo via via migliorerà domani pomeriggio le temperature sono in lieve aumento per quanto riguarda la giornata di sabato sabato avremo la prima parte, la mattinata ancora irregolarmente nuvolosa con nuvole basse anche più insistenti nelle zone dell'entroterra poi aumenterà la copertura dal pomeriggio sera e quindi di conseguenza il primo di maggio è confermato insomma il cattivo tempo un peggioramento del tempo per domenica primo maggio e l'inizio della prossima settimana andiamo adesso a leggere i quotidiani cominciamo dal resto del carlino ieri hanno deciso e confermato l'ergastolo per l'assassino di Andrea Ferri ecco qua la foto del resto del carlino ucciso da Andrea Ferri ieri l'appello ad Ancona per Donald Sabanov carcere a vita per lui per Karim invece Bari 4 anni di sconto il fratello della vittima Michele dice è quello che si meritano ecco colui che starà in carcere per tutta la vita e questo invece 20 anni con 4 anni di sconto di pena c'è un'intervista sciocca ad un quotidiano online di Monsignor Trasarti il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola sul web è già un caso scrive il resto del carlino migranti bomba del vescovo di Fano i poveri italiani non fanno notizia l'andremo a vedere tra un istante c'è ancora cronaca nelle pagine interne del resto del carlino la faida di muraglia c'era uno sgarbo da vendicare la vittima aveva l'amorosa sbagliata si era fidanzato con la ex di un albanese tutti in retroscena dell'assalto il coraggio di una pattuglia della polizia che attira in trappola gli aggressori armati il SIULP denuncia il sindacato di polizia dopo la brillante operazione il dipartimento ci ha tolto altri due uomini l'altra pagina bufera nella sanità volantini delle noci interrogato dai PM l'assessore si presenta in procura io non centro con quel contributo parliamo dell'inchiesta che è nata da un'intercettazione legata agli appalti nella sanità marchigiana il patron del Medilife distribuiva utilità varie tra cui stampe elettorali e ancora sulla pagina di Pesaro sequestrato l'hotel Principe pericolo igiene e altre violazioni indagato il gestore ha disatteso le ordinanze del sindaco all'ordine del giorno anche l'ipotesi dell'abbattimento asilo nel mirino troppi furti genitori esasperati portano via i bambini da scuola parliamo del caso Manfrini l'assessore in colpa i media la materna del porto ha subito negli ultimi mesi numerose incursioni il comune ha rinforzato gli infissi con i lucchetti ma per i genitori questo è troppo poco poi come dicevamo in apertura l'intervista l'intervista che ha scovato su questo sito questo sito online che si chiama La Fede Quotidiana La Fede Quotidiana è un'intervista che ha rilasciato il vescovo Armando Trasarti vescovo shock ci sono tanti poveri anche a casa nostra talvolta ho l'impressione che gli immigrati siano diventati un business e questa è la pagina con il titolo dell'intervista che riporta oggi il resto del Carlino il Corriere Adriatico di Pesaro invece Pesaro testimonial della bellezza italiana la città è tra i 12 comuni scelti dalla RAI e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per valorizzare le eccellenze del paese nel mondo per il primo di maggio disoccupati in aumento altri che riprese il dato maschile si avvicina a quello delle donne superando l'11% negativo anche il saldo delle aziende da Fano invece vandali in azione contro i bambini l'ultima impresa notturna guardate qua è il danneggiamento al parco giochi di San Lazzaro qualche annoiato ha preso la panchina e l'ha messa sopra questo scivolo hanno rotto un cavallo a dondolo e issato le panchine su uno scivolo e altalena ennesimo ride questo a San Lazzaro di Fida Marina Gruppo invece un'urbanizzazione entro il 31 dicembre pena la decadenza della convenzione sopra invece i gruppi di centro-sinistra e la tua Fano chiedono al sindaco di formare già il personale a favore delle unioni civili il documento sostiene il progetto di legge Cirinna che dopo il senato deve ottenere il sì della camera Cecchini invece è stato Luciano Cecchini è stato confermato presidente degli albergatori ecco il direttivo per il prossimo triennio gebellaggio in bici invece tra Fano e Perugia pioggia e freddo non fermano l'iniziativa e poi sotto Darsena Borghese i lavori fino a dicembre la pagina di Fano e Valle del Cesano invece da Orciano nasce il primo poliambulatorio sociale la struttura sarà inaugurata sabato con la Olus articolo 32 lotta alle liste di attesa tutti i servizi tranne radiologia terapia fisica e strumentale riabilitazione e recupero funzionale la pagina di Senigallia invece addio a Riccardone lo chef amico dei VIP nel suo ristorante tante le star dello spettacolo come Montesano Giovanotti Venditti e Ramazzotti iniziò a lavorare con i genitori nel Mille Luci alla bruciata ecco una foto grande dello chef da qualche mese si era ritirato a vita privata a causa di una malattia che ieri ha avuto il sopravvento il suo locale in via Rieti era un punto di riferimento tre anni fa aveva aperto la taverna del porto poi l'altra notizia anche qui guardate queste cose che dovrebbero essere sono cose strazianti ma allo stesso tempo che danno ancora un po' di speranza non regge al dolore e muore sei giorni dopo il marito tra Olfo Conti e Ludovina Bruschi un amore da favola al loro fine ha commosso la frazione di Scapezzano a 85 anni aveva già vinto la sua battaglia contro un male ma non ha resistito alla perdita del compagno a colui che è stato accanto a lei per tutta una vita ecco questa bellissima foto di Olfo con la moglie che si è spenta sei giorni dopo il marito andiamo per chiudere la nostra segna stampa sul messaggero eccolo qua delle noci da IPM sono più leggero dice lui delle noci che è l'assessore comunale al bilancio ieri mattina si è recato spontaneamente da IPM Andrea Laurino e Ruggero di Cuonzo sono IPM che si occupano dell'inchiesta sui presunti appalti regolari nella sanità marchigiana lui dice tutto regolare adesso confido nello stralcio il sostegno del PD delle Marche all'assessore e a Baldantoni centropagine guardate questa è la foto di Sabano fine pena mai per lui che ha secondo appunto gli inquirenti secondo i giudici ucciso senza pietà Andrea Ferri per lui carcere a vita a tavoletto invece senza sindaco in arrivo il commissario il prefetto designa Patrizia Claudia De Angelis e tra un anno a tavoletto si andrà al voto mentre oggi c'è un Alexio Magistralis di Mauro Forghieri che negli anni 70 progettò le vittoriose Ferrari le vittoriose rosse della 312 l'ingegnere della Formula 1 in cattedra oggi a Urbino sulla sanità Sale Cesetti Ceriscioli dice io lascerò dopo aver sistemato alcune questioni e poi lascerò la deliga dunque si comincia il toto assessore Sale Cesetti Ceriscioli non vuol toccare gli equilibri i volpini e busilacchi spendibili ma dovrebbe uscire la bora l'assessore Fermano lascerebbe il bilancio a fine anno la mossa dopo la definizione degli ospedali unici per il dopo Ciccarelli Marini difficile andiamo sull'altra pagina anche qua nella pagina di Pesaro Sigiglia l'hotel Principe denunciato il gestore posto sotto sequestro all'albergo da tempo al centro delle polemiche per il suo stato di degrado quell'ergastolo non glielo può togliere nessuno sentenza lampo solo un'ora per decidere il procuratore generale Macri a Pesaro una qualità investigativa di primordine sul primo di maggio nel segno dei disoccupati anche nel Pesarese il nodo del lavoro resta drammatica la realtà anche se l'occupazione giovanile è in lieve miglioramento i sindacati si preparano all'appuntamento con uno spirito di forte preoccupazione ripresa ancora purtroppo troppo timida chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero vogliamo riempire la piazza per dire no all'ospedale unico sanità il comitato pro referendum conferme il presidio di domani sera il sindaco Seri non ha ancora risposto all'invito ma il suo silenzio è più che eloquente i promotori vogliono accentuare la pressione sul sindaco per lui è pronto un pacco di 4.000 firme la manifestazione di carattere trasversale sarà confermata anche in caso di cattivo tempo è tutto per la rassegna stampa di oggi noi ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia del telegiornale per la rassegnappi 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 per la rassegnappi